Buonasera, sono Antonello Marinelli e gioco per il pavvetto. Mi è stato chiesto un pensiero circa il derby che si giocherà domani allo Stadio Danucci. Sicuramente il primo pensiero è legato alla mia infanzia quando da piccolino con mio padre andavo allo stadio. Attendevo tutta la settimana che arrivasse la domenica proprio perché seguivo molto la squadra e quindi ricordo che tantissima gente veniva al campo. Ricordo le radioline che raccontavano la serie A minuto per minuto perché non c'erano gli smartphone. Sicuramente la mia voglia di avvicinarmi al calcio è nata proprio in quelle domeniche osservando i calciatori della Cimonte Iasi. Uno di quei calciatori oggi con orgoglio è un mio compagno di squadra che è Alfonso Sgobbio. Tornando al derby di domani è una partita importante perché sia la S di Montegliasi con cui ho giocato diversi anni che il pavvetto, la squadra mia attuale, ci giochiamo tanto perché siamo ben posizionati in classifica, siamo nei primi posti della classifica a pochissimi punti di distacco. Appunto domani sarà una partita vera, sarà un derby e ci sarà tanta emozione, però nonostante questo proveremo a fare il nostro dovere e a vincere la partita. Sicuramente sarà un momento, come dicevo, emozionante perché con tanti ragazzi dell'ASD c'è amicizia, c'è parentela, abbiamo condiviso e continuiamo a condividere momenti al di fuori dal campo, quindi è inevitabile che ci sia tanta emozione, ma è giusto anche così. Ma questo al primo fischio dell'arbitro comunque sia verrà messo da parte perché proveremo a fare la nostra partita e a vincere. Non posso fare altro che invitarvi al campo domani a vedere questo derby e a tifare per il pavvetto. Buona serata.